Il narcisista è ipocondriaco. Il narcisista ha una paura fottuta di crepare. Uno dirà, ma tutti hanno paura di morire, tutti hanno paura della malattia. Sì, ma il narcisista perde completamente il controllo di fronte alla malattia. Il narcisista è ipocondriaco ed è appunto quella persona che nel momento in cui si ammala, e che quindi si potrebbe anche ipotizzare, quando uno si ammala nella malattia, comunque è sempre contemplata la possibilità della morte. Perde completamente il controllo, soprattutto se magari della malattia non ne viene a capo. L'ipocondriaco è perché poi è proprio in quel momento, nel momento della malattia, nel momento dove si può ipotizzare e contemplare un'eventuale morte, che ovviamente prova angoscia, prova angoscia, perde il controllo. Perché comunque fa i conti con la sua immortalità. Siccome nelle relazioni umane il narcisista si sente immortale, capace di gestire le persone, le emozioni delle altre persone, non può gestire la malattia, non è in grado di farlo. Probabilmente perché non è immortale, non è in grado di gestire la morte, e quindi perde completamente il controllo. Ma l'ipocondriaco è quella persona che si recca al pronto soccorso tre volte chiamando un'ambulanza. Cioè che tu dici, ma prendi un taxi deficiente, voglio dire, cioè tu puoi mobilitare un'ambulanza per andare al pronto soccorso, ma lasciala libera a chi magari ha un infarto e c'è un incidente. Cosa chiavi l'ambulanza per andare al pronto soccorso? Ma perché? Perché perde il controllo, non capisce più niente, non razionalizza. Cioè tutta quella parte che credete che un narcisista abbia razionale, in realtà non ce l'ha. Quello che ti sembra razionale di un narcisista è la sua non empatia, però nel momento in cui si trova nel panico dimostra che non ha razionalità. che poi tu dici, vabbè, alla terza volta che è andato al pronto soccorso, uno spera pure che lo trattengano, si accorgono della sua insanità mentale, lo trattengano al riparto psichiatrico. Invece no, mandano pure a casa, no? Sarebbe stata un'opportunità persa. Il narcisista è quello che, il pocondriaco è quello che ti manda le foto del pronto soccorso. Ma mica le manda solo a te, le manda a te, le manda a tutte quelle persone con le quali trattiene quelle sue pseudo-relazioni triangolate, quindi in parallelo, e poi la manda a cane porcice. Spamma il cellulare di foto con lui al pronto soccorso con la stessa faccia da ebete, che fa girare a tutti, no? Ma mica ti manda solo a foto, ti manda esami, referti, proprio perché ha la ricerca di qualcuno che lo tranquillizzi, o che gli cerchi, gli trovi la malattia, no? Quella malattia che lo sta mandando fuori di testa, cioè perde completamente il controllo, cioè non ragiona più, cioè è capace di passare la giornata a mandare sul cellulare referti, foto, temperature corporee a cane porci perché è nel panico totale, è nel delirio, ha un attacco, non di ansia, di più, cioè ha perso il controllo. e quindi questo fa capire che di fronte alla malattia e all'avvicinarsi della morte il narcisista è debole, è molto debole, ma non è debole come si può dire tutte le altre persone, è proprio debole perché si sente inerme, non si sente inerme, si sente in non poter controllare qualcuno, è molto abile nel controllare le persone, nel gestirle, nel manipolarle, nel trattarle male, nello scartarle, nell'usarle, ma di fronte alla malattia e alla morte è un comune mortale come tutti gli altri. Cosa dovete fare? Dovete amplificare il turbamento della malattia al narcisista ipocondriaco, dovete insinuargli dubbi, e dire di ah ma hai fatto tutti questi esami, però magari dovresti fare ancora questo, ma hai mai pensato di farti il test HIV, perché poi tra l'altro il narcisista è pure promiscuo nella sua sessualità, quindi magari con te sei stata anche fortunata, ha usato precauzioni, con un'altra magari non le ha usate, cioè gli metti il dubbio della malattia e lì perderà completamente il controllo, anzi diventerà anche rabbioso, no? Di fronte alle vostre provocazioni, provocazioni giuste, cioè gli è andata a amplificare questo turbamento che lui tra l'altro è molto bravo a fare con le altre persone, ma se è fatto a lui perde le staffe. Quindi mi raccomando, ah che poi magari è arrivata una certa, gli dici pure, beh, scusa, hai fatto tutte ste visite, ma una da uno psichiatra, ma vai da un neurologo, non lo so a sto punto, c'è la testa, hai mai contemplato di fartela curare? E magari di fronte a questa cosa magari ci va pure, però poi ti dice che non ne ha bisogno, che non è quello e dà la colpa a qualcosa di organico e fisico, non di mentale, perché non può accettare il fatto di essere un malato di mente. Lui che per primo ha sempre sminuito le persone che magari avevano problematiche di tipo depressivo, ansioso, malattie mentali, no? Perché ovviamente è una persona che ha sempre disprezzato le fragilità degli altri, quindi fatte passare come dei veri e propri handicap e poi quindi non può accettare il fatto di esserci caduto pure lui, no? O di farne parte. Anzi, poi magari suggerisci questo, dopo che magari l'ha fatto pure, poi ti dice che gli fai gaslighting, no? Mi fai gaslighting? Mi fai passare per pazzo? E ti faccio passare per pazzo? Ma fatti due domande e datti le tue risposte. Cioè, prova a andare a farti colare il cervello, l'hai messo in contemplazione sta cosa oppure no? Vabbè, comunque, detto questo, state attenti ai narcisisti ipocondriaci, sappiate di riconoscere, spero che con questo video non solo vi abbia dato delle indicazioni giuste, ma che vi abbia anche fatto un po' sorridere, quindi prendeteli in giro, prendeteli in giro. Se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale di Amore Psiche con la Pink. Ciao a tutti!